Secondo te qual'è un champion buono da minare? Quello che ti piace Eh già, Fiddle Tank Ha preso l'exhaust e non li... What? Wait, 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 wait What? Wait, 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 wait Wait, 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 wait Camille Top, Fiora Bot, Ezreal Jungle Curioso Outrafted ragazzi, fucking outraft, shot spam outraft Mana flowed Let's go Noi abbiamo l'advantage ragazzi Il flow advantage Minions hanno scappato Non sai il che giro vuole fare, lo sappiamo in realtà Potrebbe essere stato il nostro blu Dubito che lo faccio Per essere stato il nostro blu Rivediamo qui Ok, no Va bene, abbiamo il mano in più Top pick che posso abusare e lo guelo In top lane Jax Bang Hit Mana flow E tutti e tre minion Qua ci abbiamo preso il mina Ha saltato di Q Quindi adesso può prendere la E Dobbiamo stare attenti perché il suo lane fa parecchio male Ok, ok 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 Ma con questo mi fa prendere tutti i miei Chi è morto? Il nostro bananito Contro fiore Ataric da Wolverine Ah però è stato cancato No Bananito a quanto pare è tornato ai vecchi abituri Peccato si era riformato Mi aveva fatto una trasformazione incredibile No 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 Nelio Nelio Bananito 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 Grazie. Eh, io ho fatto un buon game, dai. Ho fatto una bella triplo kill. Mi serve altro cd, vero? Se il 40 cd è la cosa mi serve più. Ora faccio il livello 10. Tabi tanto qui, giusto? Eh, ce n'hanno tanti ad attacca. Un livello e c'è il 40 cd. Come si chiama questa skin di Fiddle? Eh, Pretoria. Come si chiama. Mi serve altro. Non so perché si offrirà di più io. C'è la tua sera di più. Non è un po' di più. Non è un po' di più. Devo aspettare il suo cd. Ora si può ancora vincere 2 damaging a mille è un po' un fastidio e può anche stoppare Sì Poi un'A1 che fk Ah spero mi erano ucciso, uno per u, uno fatto, preso il shut down, poi c'è l'anno ucciso spero Questo ci avremmo favore ucciso, non è uno shut down però Andiamo a dare una mano, un top, c'è il Drake da prendere tra poco, però potete prendere Occhio a fiora, c'è un sacco di true damage che è un po' fastidioso però c'hanno anche poca gente per stopparmela il drain no? Qua mi devo fare un morello, mi sa che si, c'hanno parecchie cure Non penso di farmi il morello e non la zona Noi, non penso di farmi il resto, non penso di farmi il resto Ma non penso di farmi il resto tutto Ma cosa può fare un po' non penso di farmi il resto Non male C'ho testo Fiddle jungle Fiddle top Scusate Beh ho preso una quadra all'inizio Che un po' mi ha Mi ha boostato Però Mettiamo la visage Andiamo per il morello Che c'hanno troppe cure Per ignorarla Anche questo mi piacerebbe Però il morello è più urgente Ah Meglio che io stia qui in bot in realtà Se no Però Stai facendo un po' apposta Sfidare le kill Non è carino Posso dirlo che non è carino Sfidare le kille Non è carino Sì 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 Perchè o match la side lane e il loro push a noi qua oppure vado anch'io a pushare Pensare che Fiora late game è un po' difficile da matchare Perchè? Sì Sì Un po' duro questo game Un po' duro Un po' duro questo game Sì Rieparti di nuovo al Nash Io vorrei che qui ti metto l'Eandria a sub completo Perché faccio parecchi danni in più La zona ancora non me la faccio Non lo so, cioè sono abbastanza tank a non morire lo stesso, capito? E il liandri ci aiuta anche a pushare I super minion Ok Ok c'è il liandri Adesso faccio molti più danni Rispetto a prima Perché comunque aumenta I parecchi base damage Poi a me sempre faccio La zonia Come ultimo item Come on Come on Mi sono me tirando, cavolo Quando siamo venuti nella nostra base è un po' un problema Perchè non c'ho posti dove nascondermi Adesso con tutti i 3 inhibitor giù è un po' difficile Però il lato positivo è che il caffè lo scontinua a farmare, diventa enorme Anche se ne inizia a diventare enorme Mi ha appiazzato sta control da qualche parte Se andiamo a contestare il Drick perdiamo Perdiamo Tanto il Drick avevamo lasciato, tanto vale prendere qualche kill indietro voglio dire Non riusciamo, non possiamo andare deep, c'hanno 2 TP e 3 speed pusher No, 2 TP e 2 speed pusher però fanno un male cane Ok, fanno cose anche da soli E ormai Aphelios c'ha 4 item quasi E in più abbiamo farmato un sacco i minion perchè ci hanno pushato gli inhibitor E in più abbiamo riuscito Troppo ridi, pensiamo poterci da fare Eh perdiamo Eh vabbè Ho sbagliato alla fine, ci ho provato Ci ho provato con tutto Qua pensavo si potesse fare Invece me sbagliavo Pensavo fossero ancora un pochino più indietro Cioè li ho peccati tutti ma non c'avevo il fear Forse dovevo fare il giro largo e li peccavo Peccato peccato Abbiamo fatto un buon game però la botta è intato troppo hard Cioè double ranged contro double melina hanno perso così tanto Peccato peccato Non, non posso vincere tutti i gioco No, non posso vincere tutti i gioco